Allora buonasera a tutti e bentrovati anche stasera. Ciao! Ciao! Allora stiamo andando avanti con la fase 2, 3, 4, a che siamo arrivati non me lo ricordo. Scherzi a parte, stiamo andando bene, fortunatamente, come dire, i numeri sono confortanti. Allora in merito a questo speriamo che presto ritorneremo anche a riprenderci in mano quelle che sono non solo gli affetti ma anche la cultura. E quindi l'arte, ritornare nuovamente ad essere, come dire, turisti ma in mezzo all'arte. E in merito a questo ho pensato ad una canzone in particolar modo, che ci chiama a visitare una città qui vicino. Allora in merito a questo ho pensato ad una canzone in particolarità. Allora in merito a questo ho pensato ad una canzone in particolarità. Allora in merito a questo ho pensato ad una canzone in particolarità. Allora in merito a questo ho pensato ad una canzone in particolarità. Grazie a tutti. 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 A domani.